Gli studenti delle scuole superiori non torneranno in classe la prossima settimana, come era stato annunciato. In Lombardia la didattica a distanza proseguirà almeno fino al 24 gennaio. Lo ha comunicato con una nota ieri sera alla Regione, preso atto delle valutazioni delle risultanze di carattere sanitario connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico Lombardo, si legge nella nota. Regione Lombardia ha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%, la decisione verrà formalizzata con un'ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio. Una scelta dunque, assunta a fronte dei dati epidemiologici non troppo incoraggianti degli ultimi giorni, che alimenta nuove polemiche. Proprio ieri, 7 gennaio, in occasione del mancato ritorno in classe inizialmente previsto dopo le festività natalizie, studenti e docenti hanno protestato in Piazza Affari a Milano per rivendicare il diritto allo studio in presenza. Non possiamo permetterci un'altra falsa partenza sulla scuola con un apri e chiudi che non fa bene né agli studenti né ai dati sanitari, ha scritto il governatore Lombardo Attilio Fontana sul suo profilo Facebook. Prendiamo questo tempo fino al 24 gennaio, sia per ulteriori valutazioni sull'andamento del virus in questo primo mese del 2021, sia per mettere in campo nuovi e concreti provvedimenti per supportare la ripartenza in sicurezza. Uno dei temi che ha sempre frenato la riapertura delle scuole superiori è quello del trasporto pubblico. ASF Autoline, che gestisce il trasporto su gomma, si era impegnata a potenziare il servizio. Tutto era già stato predisposto con circa 80 corse modificate e 80 aggiuntive, commenta Angelo Colzani, responsabile del trasporto pubblico locale per le province di Como, Varese e Lecco. Era stata preparata anche una cabina di regia per monitorare l'andamento dei primi giorni. L'azienda aveva pianificato turni aggiuntivi per i propri dipendenti, ora dovrà rivedere tutto. Con questa decisione si esprime tutta la nostra italianità, dove ognuno va per gli affari suoi.